Il suo libro Quasi Papa sarà uno dei volumi protagonisti del Taobuk di Taormina. Devo dire che quando mi hanno chiamato per invitarmi a Taobuk quasi mi tremavano le gambe, non ci credevo. Quindi è un orgoglio per me, ma credo che dovrebbe essere anche un orgoglio per la città di Agrigento. Il tema di quest'anno di Taobuk è la verità. Il tema che mi hanno dato è Viaggio dentro un destino alla ricerca della verità. Quindi questo ragazzino che parte dalla città di Agrigento è il destinovole che incontra personaggi a Roma di un certo calibro che gli fanno conoscere la verità. Lui ha la fortuna di servire sette papi e di sedersi quasi sul sogno di Petro. Ecco anche il titolo del libro del libro Quasi Papa. Io in questo libro intreccio delle verità con delle fantasie. Quindi le verità che sono i cardinali, i papi, i conclavi, le fantasie che sono i protagonisti. E vado a toccare diversi temi. Tra questi anche la verità. La verità verso la fede, la verità verso Dio, la verità verso gli altri. Un personaggio che non è un narciso, ma che arriva all'apice della sua carriera a diventare quasi papa per l'umiltà, per la devozione e per la fede. La sua presenza al Tao Book getta anche le basi per future collaborazioni, gemellaggi con Agrigento e con la Fondazione Teatro Pirannello. Quali sono le novità? Ma diciamo che poco fa ci siamo sentiti con la dottoressa Ferrara. Proprio per iniziare questo percorso di collaborazione non con la Fondazione, ma con la città, tra la città di Agrigento e la città di Taormina. Quindi Tao Book arriverebbe anche ad Agrigento. Quindi non solo Fondazione, ma ci sarà anche l'università, ci sarà anche la chiesa, ci sarà il comune, tutti insieme, protagonisti, l'endeparco, tutti insieme, protagonisti affinché Tao Book arrivi ad Agrigento e che sia anche da auspicio per Agrigento diventare la capitale della cultura, il nostro sindaco, il nostro sindaco la candidata. Quindi noi tutti insieme dobbiamo aiutare l'amministrazione affinché raggiunge questo obiettivo. È un'occasione importante per creare un rapporto stabile con il Festival Letterario di Taormina e fare sì che fin dalla prossima edizione ci possa essere uno spazio ad Agrigento. È un progetto ambizioso e anche funzionale rispetto a quelli che sono gli impegni del territorio, proiettati verso la capitale della cultura di Agrigento per il 2021. Questo è importante perché bisogna costruire tutta una serie di opportunità che vanno a suffragare quello che è il patrimonio artistico monumentale che ricade in questa città perché non basta quello per essere protagonisti e candidarsi a capitare alla cultura, perché capitare alla cultura non si nasce ma si diventa. Allora ecco l'occasione del genere può essere funzionale a raggiungere questo obiettivo e naturalmente è un riconoscimento importante per Andrea Cirino perché questo suo romanzo prende sempre più piede come abbiamo avuto modo di riscontrare in diverse presentazioni che abbiamo fatto anche alla presenza di classi numerose, di giovani molto interessati che attraverso questo romanzo non solo hanno la possibilità di andare a vedere qual è la vita della Chiesa negli ultimi anni ma anche gli avvenimenti importanti che ci sono incrociati in quei periodi all'interno del nostro Paese.